ok ciao ragazzi torniamo qua su watchdogs che praticamente è un po di tempo che non non gioco avrete notato perché sono stato un po preso da altre questioni ultimo non ultimo il vlog in cui vedete il mio faccione da malicious cat in italiano anche qua per gli amici inglesi there will be a video for the vlog video will be in english as well so don't worry about that I'll come in as soon as it's possible anyway per andare avanti dicevo ritorniamo come sapete io ho fatto solo tre piccole puntatine non so che sono rimasto un po indietro però volevo giocarlo un po comunque per così perché ritengo sia un giochino sempre interessante e volevo continuare a giocarlo però ci sarà questa novità intanto sono qui con il mio figlio che si chiama dark emperor xbox live saluta rojpo ciao a tutti ecco e lui praticamente sarà il designato a giocare watchdog nel senso che questa serie la farò fare lui con il commentario a lui e tutto il resto quindi abbiate calma perché mio figlio è giovane e quindi piano piano cercheremo di fare questa di andare avanti con questa watchdog così per tenerlo vivo io mi sto ancora sempre occupando di wolfenstein presto inizierò anche se un po in ritardo e poi vedremo se ci sono altre cose video recensioni impegni con la crew in gta online ovviamente questo si manterrà in attesa che appunto venga fuori per la one anche appunto gta quindi sicuramente avremo ancora un sacco di opportunità e un sacco di possibilità adesso ho messo continua io non mi ricordo veramente neanche più a che punto ero rimasto forse ero uscito da casa del tipo l'ho fatto proprio miseramente poco e quindi io continuo a dire questo sia un gran bel gioco visto anche molti video su youtube da altri youtubers sia di chi fa funny moment che sia che gioca diciamo un po più serio continua a essere sicuramente a mio avviso un gran gioco poi i caricamenti che sono sempre eterni con la one è un po una palla perché la 360 paradossalmente va più veloce a caricare che non la one è una cosa un po strana è così niente io appena iniziamo lascio microfono joystick e quant'altro nelle mani di mio figlio ricky che appunto giocherà lui e spero che vi divertiate con lui che vi faccia divertire vediamo se chiediamo a far sto cosa quanto ci metto eccolo lo stavo io ah di veramente così proprio all'inizio inizio fuori casa senza un cazzo come le mani ops Nicky senti lo so la festa è iniziata è quasi finita sto arrivando ah mi fa impazzire Jackson ci tiene davvero non vede l'ora vieni qua ci manchi anche voi arrivo dove vai ops io ho l'abitudine a usare i comandi di gta dai non mi ricordo vabbè ci penso io vabbè ci penso io preferisci dare il tuo nome a una concessionaria io non faccio domande questo tizio mi rimedia ciò che voglio anche a te se vuoi vedremo questa morisse e finisce questa ci penso io a scaricare questa zona parlata si 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 ok ok vivo abbiamo fatto tre ore di discussione vediamo i copyright di questi action script e boh niente ok adesso vi lascio in mano a lui a giocare ci vediamo poi alla fine o prossimamente su questi video ciao 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 a tutti e volevo dirvi solo che scusate se non se non parlerò tanto perché non sono molto abituato a parlare mentre gioco quindi esci fuori prendiamo sta cavolata minchi ok ok io ogni tanto gioco a gta e quindi la è più facile guidare rispetto qua quindi farò molti più incidenti scusate se faccio un po schifo però per favore non fateci caso qualcuno lo pagherai qualcuno lo pagherai qualcuno lo pagherai Grazie a tutti. Ok, inizia la missione. All'ultimo compleanno di Jax, Lena cantava stonata, tanti auguri. Evidentemente. Era davvero incontenibile. Adesso, ho paura del silenzio. Ok, direttamente qua potevo farmela anche a piedi. Ok. Quanti anni hai? 10. Secondo me ne hai 9. Sono 10. 9. 10. 9. 10. Beh, allora vuol dire che ti becchi 10 solletichi di compleanno. Cosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beh, ci spera che sia pronto perché da tanto che non lo vede qui. Dopo un anno tu arrivi. Tardi. E sarebbe il figlio della sorella. Bella battuta. Il suo primo compleanno senza Lena. Come sta? Continua a parlare solo con me. Yolanda dice che in questo modo riesce a mantenere il controllo. Yolanda? La terapista lo sta aiutando. E funziona. Ci vuole tempo. È dura ma ce la faremo. Jax. Ehi. Scusa, io ho ritardo. Penso sia quasi finita, non lo so. Allora, chi hai ricevuto? Wow, il guaritore. Forte. Hai comprato un bel giocattolo. Perché non giochi un po' e devi parlare con lo zio. Sì, lo zio arriva subito. Bah, sì, si deve... Non lo so, penso. È importante che tu sia qui. Devo essere sicura che ora è tutto diverso. È così. Ce l'ho detto prima, non avrò capito bene io. Tu e Jax contate più di chiunque altro. Io mi prenderò sempre a cura di voi. Da bravo fratello maggiore. Lui guarda il telefono. Non sa cosa fare. L'ultima volta ero qui per il compleanno di Lena. Jax sono adorata come tutti. Ti sei perso la festa. I ragazzi hanno giocato al giustiziere. Imitavano quel tipo di cui parlano alla tv. Fammi indovinare. Il giustiziere era Jax. No, facevano tutti giustizieri. Mentre io ero l'unica cattiva. Io che giochi. Parecchio filo da torcere. Dovevo venire prima. Dovevo avvisarli. Magari. Sembra Cildo Flight. Ricordi quando tu e mamma stavate malissimo ma a papà ha insistito che dovevi avere la tua torta di compleanno. Rabbit. Abbiamo davvero una cosa immonda. Tutta storta e bruciata. Proprio tipico di papà. Ha fatto un sacco di stronzate che non ci teneva alla famiglia. Ma senti come parlo. Telecamera. Davvero? Senti. La polizia rintraccerà la chiamata. So dove abiti. Hai chiuso a chiave la porta di casa. Ma chi parla? Che diavolo vuoi? Ti senti al sicuro, Nikki? Chi era? Nessuno uno scherzo idiota capita. Secondo te è resistente. Hai riconosciuto la voce? Cristo, Aiden, lascia stare, ok? Ok? Quello vuole entrare qui dentro. Che ne sai di cosa vuole fare? Stai controllando le porte. Senti, posso sentirmela da sola? Non ci serve il tuo aiuto. C'era solo uno scherzo. Perché chiudi le porte? Ok, senti Aiden. Dio, non sei cambiato affatto. Non ci serve il tuo aiuto. Smetti di voler risolvere i nostri problemi. Ogni volta che ci provi, peggiori sono le cose. Meglio che vada. Sì, direi che è una buona idea. Grande e grosso e fai gli scherzi. Vediamo se ti senti al sicuro dopo che ti ho rintracciato. Eccoti. Ehi. Vieni, vieni che ti prendo a legnate. Merda, si sta muovendo. Lo sapevo. La mia famiglia è minacciata ancora. Oh. No. Che figura di merda. Dai, ce la posso fare. Scusa, ho esagerato. Certe volte mi fai proprio impazzire. Torna, ok? Prometto che non darò di malto. Aiden? Stai seguendo quel tizio, vero? Ecco. Lo stai facendo ora. Sei incredibile. Non è così. Basta fare l'eroe, Aiden. Ti voglio ammazzare. Come dici? Ti voglio picchiare. Disturbata, non ti sento. Mi senti benissimo. Devi piantarla subito. Eh? Pronto? Ci sei ancora? Non sento. Ok, devo andare. Ok. Sì. 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 Questi soldi solo per fare uno scherzo al telefono Nicky Pierce Le dirò delle serrature E di suo figlio Ma questo non è affatto giusto E questo è il punto Hanno pagato questo stronzo Per spaventare Nicky Chi pagherebbe per una cosa simile? Della gente cattiva? No, 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 no Come andiamo col Tetzek? Mi servono gli hack del CTOS Ci sto provando Ti stanno valutando Dammi tempo Ok, allora devi aiutarmi Puoi tracciare una chiamata Per il mio miglior cliente, certo Aspetta, che sto cercando? Un tizio che ha minacciato la mia famiglia Dimmi, chi è che lo paga? La chiamata è stata fatta dal quartiere Loop Ma non so dirti altro Ok Se riesco ad hackerare il CTOS nel Loop Io posso scoprire il punto esatto da cui ha chiamato Staviamo La Bloom sta costruendo un nuovo CTOS nel Loop È perfetto Oh, numerica Il mese scorso il Dazzek ha cercato di attaccarlo Abbiamo fallito Hanno aggiunto altre guardie armate Non sarà facile Attento Sembri mia sorella Calmate Sarò armato e pericoloso La Bloom assolda dei mercenari per sorvegliare i centri CTOS Saranno bene più pagiati e pronti ad agire Ma anch'io Reputazione è abbastanza buona Io credo che gliela farò crollare tutta al minimo Faccio un po' di macello Faccio un po' di macello Pensavo che quel semaforo facesse più danni Invece Piano piano Magari esploda ancora Sì, noi lasciamo Il CTOS raddoppia le guardie Io raddoppio le armi Non l'avevano rubata ieri Bene Benvenuto Lancia granà Tanto a me piace fare le cose in Come dico io in stealth Se volete che Che io faccia un po' più Macello Nei centri Ditelo nei commenti Così Io lo farò Buona giornata Overe Proop Trigio Overe 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 Overe